stasera avremo con noi un astronomo è responsabile dei progetti scientifici dell'ESO che ci racconterà proprio qualcosa sull'ESO quindi non mi dilungo avviso solo una nota tecnica metteremo mute le persone che partecipano su Zoom in diretta chi ci segue sui canali YouTube può fare le domande e noi le porteremo a vostro nome al nostro conferenziere non rubo altro tempo alla serata lascio la parola a Luigi del gruppo Astrofili Polaris di Genova che ci presenterà il relatore vi auguro buon divertimento e ci sentiamo alla fine Allora questa sera abbiamo come ha detto Marco prima abbiamo il piacere di avere come ospite Nando Patat che è astrofisico italiano che lavora in Germania lavora presso l'ESO l'organizzazione che a livello europeo gestisce gli osservatori del Cile per l'osservazione del cielo dai luoghi più adatti lo possiamo considerare un vero amico perché già l'anno scorso ha partecipato a Spazio per Tutti con la sua interessantissima presentazione sulle supernove che sono il suo campo di specializzazione e di ricerca questa sera invece ci parla dell'ESO che cos'è questa organizzazione così importante quali sono i risultati che ha raggiunto e che cosa soprattutto sta pianificando per i prossimi anni perché c'è qualcosa di estremamente estremamente interessante e qualche assaggio già ce l'ha dato negli incontri precedenti quindi a questo punto io non sottrago più tempo a Nando ti cedo parole e video e ringraziandoti ancora per la tua disponibilità perché è interessante molto peculiare per due gruppi di astrofili avere un vero centro di eccellenza a livello europeo e mondiale quindi grazie e a te la parola grazie Luigi buonasera a tutti purtroppo sarebbe stato bello vedersi di persona ma questo ancora non è possibile grazie Luigi per avermi invitato ringrazio te, gli astrofili di Genova e anche gli astrofili di Scapona e tu dici bene quando dici che siamo amici ormai ci conosciamo da più di qualche anno a questo punto molto bene benvenuti a tutti vicini e lontani è un vero piacere come sempre per me condividere questa passione perché di fatto è una passione la passione che ha animato tutta la mia vita in sostanza almeno dal punto di vista professionale anche quando ero ragazzo questa sera vi parlo dell'osservatorio europeo australe l'organizzazione europea per la ricerca astronomica dove mi trovo in questo momento mi trovo esattamente qui in questa slide vedete una fotografia dall'alto io sono in uno di questi in una di queste costruzioni vedete questa cosa rossa con questa forma piuttosto tondeggiante che sono i nuovi il nuovo edificio che si aggiunge all'edificio più diciamo più vecchio che è stato costruito negli anni 80 quando l'ESO si è trasferito da Ginevra a Monaco e sulla destra poi ci torneremo sulla destra vedete un edificio scuro rotondo che ha esattamente il diametro di 39 metri che è lo specchio che stiamo costruendo per l'ILT e questo già vi dà se confrontate con le dimensioni delle cose che ci sono lì in giro le automobili ad esempio vi dà un'idea delle dimensioni del telescopio che stiamo costruendo in questa slide vedete invece due cose importanti sulla sinistra le bandiere il gran pavese di ESO sono tutte le bandiere la prima è quella di ESO ma le bandiere degli stati membri e questa è una cosa che tengo particolarmente a sottolineare perché ESO è un esempio non è l'unico naturalmente ma è un esempio di collaborazione internazionale per la realizzazione di progetti che nessuno stato singolarmente sarebbe in grado di realizzare e ci augureremmo che tante iniziative diciamo nel mondo anche al di fuori della scienza potessero realizzarsi in questo modo e godere e trarre il vantaggio che c'è dalla diversità e dalla collaborazione internazionale sulla destra vedete l'ultima e più recente costruzione dei quartieri generali è proprio qui fuori la vedo dalla finestra si chiama il Supernova Visitor Center vi invito tutti a venire a visitarlo a fare una gita monaco a venire a visitarlo è stato inaugurato da pochi anni è una struttura molto nuova è un'esposizione per i visitatori illustra le attività di ESO ma non solo è una mostra di astronomia in generale è uno dei più bei planetari d'Europa con proiettori allo stato dell'arte ci sono circa 700 metri in due spirali che si avvolgono simultaneamente una al contrario dell'altra per i visitatori è un posto molto bello ve la mostro non soltanto per fare pubblicità ma anche per dire che uno degli scopi di ESO è quello della divulgazione dell'outreach per la sensibilizzazione in generale soprattutto delle nuove generazioni alla passione per la scienza che diciamo sembrerebbe una cosa così naturale in un'epoca moderna come la nostra ma in realtà proprio così non è benissimo facciamo un salto all'indietro prima di iniziare a parlare dell'organizzazione qui siamo nel 1953 siamo in Olanda la persona che vedete nel centro è Jan Hort proprio quello della nube di Hort che tutti conosciamo da cui vengono le comete assieme a Kurganoff che era un astronomo francese e a Spencer Jones sulla destra che era un astronomo britannico e stanno discutendo per la prima volta la possibilità che l'Europa fondi abbia un suo osservatorio grande che possa competere con quello degli americani nella prossima slide vedete un telescopio che è diventato famoso e che è probabilmente il telescopio più famoso del mondo nonostante la sua età questo ha visto la prima luce nel 1949 l'avrete riconosciuto tutti è il telescopio Hale di Monte Palomar quando io ero bambino l'ESO esisteva già ma non ne avevo mai sentito parlare invece sui libri di scuola c'era il telescopio di Monte Palomar ed era diventato famoso naturalmente per tutti i lavori e le grandi scoperte che aveva fatto ebbene l'Europa si trovava in quegli anni ad avere più grandi telescopi ne aveva due che potevano che erano i maggiori avevano due metri di diametro avevano il telescopio dell'Alta Provenza e quello e quello del Pic Tumidi che era anche in Francia un altro telescopio molto famoso ma certo non potevano competere con il telescopio da 5 metri del Palomar ed è per questo che dopo l'iniziativa di Hort e di altri pochi astronomi è iniziata una campagna di site testing si dice cioè la ricerca di un sito in cui poter mettere un grosso telescopio europeo e ci si è subito orientati all'emisfera australe perché naturalmente si voleva competere con gli americani ma lo si voleva fare in maniera che loro non potessero competere con noi i 5 metri era nell'emisfero nord e quindi l'Europa decide di mettere il suo grosso telescopio nell'emisfero sud e iniziano le campagne di site testing in Sudafrica la fotografia che vedete qui è fatta nel 1955 non siamo tanto distanti da città del capo e erano è iniziata così la storia di ESO dopodiché è passato qualche anno questo che vedete l'atto di costituzione del 5 ottobre 1962 siamo a Parigi il Belgio la Francia la Germania l'Olanda e la Svezia si mettono d'accordo e fondano l'ESO che l'ESO sta per European Southern Observatory quindi già nello stesso nome raccoglie l'intenzione fare un osservatorio europeo competitivo nell'emisfero sud si cambiò idea circa il sito perché con l'andare degli anni divenne chiaro che il miglior sito sulla terra era il deserto di Atacama quindi bisognava cambiare continente andare in Cile questa fotografia fa sorridere siamo nel 1962 l'ESO è fondato è stato fondato formalmente da un mese però nel novembre del 62 inizia la prima esplorazione di un sito che si chiama la SIA che vuol dire la seggiola in sostanza perché ha questa forma siamo all'inizio del deserto di Atacama poco sopra la città di La Serena circa 600 chilometri a nord di Santiago del Cile e come vedete l'esplorazione non c'era una strada l'esplorazione viene fatta a dorso dei muli questo vi dà un'idea di dove siamo sulla sinistra vedete il continente sudamericano e sulla destra l'ingrandimento della zona tornerò anche un'altra volta su questa cartina così abbiamo tutti un'idea di dove siamo e come ci muoviamo ESO fonda i quartieri generali a Santiago una succursale cilena dei quartieri generali a Santiago del Cile siamo negli anni 60 e i primi telescopi appunto vendono il sito viene esplorato vicino alla città di La Serena e qui sulla carta vedete che c'è un segmento giallo che va dalla Serena verso il serro La SIA perché ESO sceglie il Cile poi verrà seguito anche dagli americani perché anche gli americani capiranno che i siti cileni sono i migliori al mondo beh questa slide questa fotografia che è stata fatta durante è stata fatta dagli astronauti dello Space Shuttle durante una servicing mission per lo Space Telescope e ritrae il Cile dal nord basso a sinistra scusate verso il sud in alto a destra vedete che c'è sulla destra questa regione bianca che è l'oceano pacifico coperto dalle nuvole e sulla sinistra di nuovo una regione bianca coperta dalle nuvole e la regione la regione nel mezzo è il Cile che è lo stato più lungo del mondo lungo quasi 7000 km e va in sostanza dal tropico fino alla praticamente fino all'Antartide di fatto il Cile anche possiede un pezzettino di Antartide e vedete che è una strescia stretta e lunga e completamente scoperta il cielo è libero non ci sono le nuvole il motivo è molto semplice il mare è molto freddo sulla destra la corrente di Humboldt che viene dal polo sud fa condensare tutta l'umidità sul mare e invece dall'altra parte ci sono le Ande Cilene vi ricordo che le Ande Cilene ospitano la montagna più alta dell'intero continente americano il monte Aconcagua e comunque raggiunge su una media di 4000-5000 metri per svariate migliaia di chilometri quindi costituisce un muro che ferma tutte le perturbazioni in arrivo dall'altra parte del continente sudamericano e questo è il motivo per cui c'è il deserto di Atacama che è una delle zone più aride e inospitali questa è una fotografia fatta negli anni 60 nel sito di La Sia come vedete ancora non c'è nessun telescopio viene costruita una strada per salirci e capite perché si chiama La Sia perché c'è questo avvallamento dove poi verranno insediati alcuni dei telescopi e anche le residenze per gli astronomi e i dormitori questo è visto da sotto è un panorama molto molto bello lo vedremo più volte mi soffermerò questa sera molto su questi aspetti che magari altri astronomi non su cui altri astronomi non puntano l'attenzione non parlerò naturalmente di astronomia e dei risultati scientifici ma questo lo fanno già in tanti e volevo anche mostrarvi altri aspetti della vita dell'astronomo e anche diciamo altri aspetti della mia organizzazione questo è visto dal pianoro dall'alto piano che c'è sotto la montagna di Lassia siamo diciamo già ai piedi della cordigliera dove c'è una striscia che si chiama El Pelicano che era il piccolo aeroporto perché il sito si raggiungeva soltanto direttamente da Santiago con un volo che durava circa tre ore e mezza partendo da Santiago e atterrando in questa striscia di deserto molto avventuroso la prima volta che ci sono stato e lassù in cima vedete i telescopi anche questa fotografia mi è molto cara perché vedete ci sono i guanaki una specie di lama in sostanza e le cupole dei telescopi quindi siamo in mezzo al nulla un posto molto molto sperduto molto molto bello i colori sono molto marcati naturalmente il cielo è straordinario questa è una vista di Lassia in epoca moderna è fatta poi lo mostreremo è fatta dal New Technology Telescope dall'NTT che è stato costruito poco dopo l'ingresso dell'Italia in ESO che è avvenuto nel 90 qui vedete alcune delle cupole vedete il sole che sta tramontando sull'oceano coperto dalle nuvole e vedete le varie file delle cordilliere e questo di nuovo visto da sotto vedete il telescopio da 3,60 m e questo era l'obiettivo di ESO in quegli anni non si è riusciti a costruire un telescopio da 5 metri ci si è avvicinati col telescopio da 3,60 che è rimasto per molti anni il telescopio più grande nell'emisfero sud quindi non poteva competere al nord col Palomar ma al sud era il telescopio più grande in funzione come vi dicevo il sito è molto bello anche dal punto di vista naturalistico oltre ai colori c'è qui siamo all'inizio del deserto di Atacama poi andremo più a nord dove in sostanza non c'è praticamente nessuna forma di vita ai bordi meridionali del deserto di Atacama invece un po' di vita c'è soprattutto perché alcuni animali come questa volpe sorro lo dicono lì in Cile questa volpe ha in bocca un pezzo di pane che se l'è preso nella mensa degli astronomi quindi alcuni animali si sono adattati a vivere lì vicino perché ovviamente anche loro c'è dell'acqua di scarico cresce un po' di vegetazione e i cuochi e anche gli astronomi danno da mangiare agli animali selvatici il panorama è fantastico è veramente fantastico è bello di giorno così come quanto è bello di notte vedete questi colori queste le chebradas cioè tutte queste queste cavità queste valli queste specie di canyon che si ripetono una dietro l'altra con dei cieli molto spesso quasi sempre limpidi ma quando ci sono le nuvole queste contribuiscono a colorare soprattutto al tramonto a colorare la regione questa è una visione fatta proprio da quello roplanino che ci portava dalla Sia a Santiago e viceversa una visione di Paranal scusate di la Sia vedete la cordigliera sul fondo e la precordigliera dove si trova la Sia vedete il telescopio da 360 il più grande il più alto tutto sulla destra con il picco della montagna che è stato tagliato come si usava in quegli anni la cupola è molto grande una cupola la vediamo qui è una cupola enorme vedete lo potete confrontare con le dimensioni dell'uomo che c'è fra i due telescopi fra il 360 che è quello sulla sinistra e il CAT che è quello sulla destra vedete che c'era questa teoria i telescopi dovevano essere molto molto staccati dal suolo per diminuire la turbolenza per aumentare in sostanza per avere un SING migliore come diremmo nel giorno d'oggi teoria che poi è stata abbandonata i telescopi moderni si costruiscono invece molto molto vicini al suolo la costruzione è davvero impressionante il telescopio su una montatura equatoriale lo vediamo qui vediamo il telescopio disteso questo sono io quando lavoravo al 360 molti anni fa il telescopio disteso per la pulizia dello specchio principale veniva pulito con un getto di anidride carbonica vedete il mio riflesso più volte nel secondario il secondario che è molto grande molto più grande di molti dei telescopi diciamo che siamo abituati a vedere il telescopio è effettivamente enorme vedete in questa fotografia sulla destra con quella tromba quello sono io e quella lì che vedete giù subito dietro di me si chiama la gabbia il cage e ospita all'interno gli strumenti cioè l'equivalente della macchina fotografica se vogliamo attaccata a un telescopio di quelli amatoriali e il cage è così grande la gabbia è così grande quando si aprono quelle porte un uomo intero ci può entrare e stare in piedi sulla destra vedete la dislocazione della montatura equatoriale una montatura equatoriale enorme che pesa tantissimo la cupola pesa 400 tonnellate vedete una cupola emisferica di vecchio stile quindi con le fenditure che si aprono e il telescopio si può muovere in tutte queste direzioni vedete che è a ferro di cavallo la ralla dove il telescopio ruota e quando si muove il 360 fa veramente una grande una grande impressione negli anni i primi anni 90 quindi il 360 entra in funzione nel 1973 e diciamo produce dei grandi risultati ovviamente il telescopio più grande è l'emisfero sud perché è importante perché l'emisfero sud ha accesso alla piccola alla grande numero di Magellano sapete che sono due due galassie molto vicine se non addirittura attaccate alla nostra o connesse con degli stream di stelle e poi naturalmente c'è il centro galattico che da qui che da qui voglio dire dal nostro emisfero nord non si vede e lo vedete qui invece in questa fotografia sulla destra sulla sinistra visto attraverso i portelloni della cupola dell'NTT del New Technology Telescope qui siamo nei primi anni 90 l'NTT viene costruito anche grazie al contributo dell'ingresso dell'Italia che entra un po' tardivamente entra a far parte di ESO e entra e ci tengo a dirlo per merito non solo ma insomma c'è una forte spinta da parte di Margherita Haack che ha capito che l'astronomia italiana non avrebbe avuto grande avvenire se l'Italia non fosse entrata in ESO vedete che il concetto della cupola è cambiata è molto vicino il telescopio è molto vicino al suolo la cupola non è più emisferica come si usava prima è diventata ha una forma un po' così una scatola che tende a racchiudere il telescopio e non solo ma nel concetto di una volta diciamo la costruzione resta ferma Entity invece è un nuovo concetto perché tutta tutta la costruzione si muove assieme al telescopio quindi il telescopio non c'è bisogno di ruotare la cupola per centrare il telescopio si ruota tutto quanto assieme e l'impressione era strana quando uno entrava nella control room nella stanza di controllo all'interno di Entity quando si chiedeva all'assistente per favore mandami il telescopio a queste coordinate nel riseduto dentro la control room tutta la costruzione ruotava quindi c'era una minima accelerazione e uno aveva con un senso di capogiro non si capiva cosa era perché stavi ruotando assieme al telescopio perché si chiama New Technology Telescope o telescopio a nuova tecnologia perché ESO per la prima volta introduce un concetto che poi verrà usato da tutti e tutti i telescopi moderni costruiti dopo quell'epoca e si chiama ottica attiva poi parleremo anche dell'ottica adattiva ma l'ottica attiva consiste in un sistema meccanico e lo vedete sulla destra formato da un grande numero di piccoli attuatori che sono dei piccoli pistoni in sostanza che tirano e spingono ci si appoggia sopra lo specchio che adesso invece è un vetro sottile a differenza di quello dei telescopi classici in cui voi lo sapete la regola un sesto del diametro circa fra un terzo e un sesto del diametro erano degli specchi spessissimi invece qui si pensa facciamo degli specchi sottili che però si deformano proprio perché sono sottili ma noi li correggiamo con questi attuatori con un loop chiuso che esamina la forma delle stelle diciamo al piano focale e corregge la forma dello specchio in modo che le stelle diventino tonde e siano il più piccole possibile così detta in soldoni questo porta la qualità dell'immagine a un salto fa fare un salto enorme fa veramente raggiungere diciamo ci si avvicina a quello che è diciamo il singo ottimale e quindi batte decisamente il 360 che invece era affetto da molti problemi in un ultimo l'inerzia termica dovete immaginare una costruzione enorme come quella che di giorno sotto il sole si scalda e di notte deve raffreddarsi l'NTT invece ha uno specchio sottilissimo una cupola di lamiere molto sottile si raffredda subito e lo specchio viene modificato questo fa fare un grande salto avanti ed era all'epoca era veramente un grande risultato poter ottenere il tempo all'NTT come vi dicevo il sito è bellissimo al tramonto naturalmente ci sono questi colori e uno veramente quando lo vede la prima volta ci si innamora e vorrebbe sempre tornarci di nuovo vedete i guanaki c'è questo aspetto che uno è veramente in mezzo al nulla siamo a più di 100 km dalla città più vicina e nei dintorni non c'è nulla chiudo la parentesi di La Sia con questa immagine questo si chiama Black Jam vedete che ancora qui la concezione di cupola e di telescopi è cambiata completamente Black Jam è un telescopio che entrerà in funzione presto è una serie di telescopi qui ce ne sono due finiti e il terzo sta per essere assemblato telescopi completamente robotici e automatizzati che serviranno per studiare transienti nel cielo se oggetti che appaiono e scompaiono queste supernove lampi di raggi gamma ma soprattutto le controparti ottiche delle sorgenti di onde gravitazionali ESO non contento di La Sia vuole passare al passo successivo e quindi a costruire un telescopio nella classe degli 8-10 metri viene fatta una campagna di site testing prima di passare vi mostro queste immagini queste immagini che vedrete sono tutte immagini vere non sono dei collage quindi questa è un'immagine del 360 con la via Lattea dietro vedete i sacchi di carbone le zone più oscure fatta con un'esposizione lunga con una camera normale questo vi dà l'idea della qualità del cielo del Cile è straordinaria anche a occhio nudo è straordinaria è veramente straordinaria bisogna averla vista e quando uno l'ha vista poi non se ne dimentica più riprendiamo il discorso ESO dice sì vogliamo fare un passo successivo viene valutata la possibilità di costruire il VLT adesso si chiamerà così il Very Large Telescope che è un array di 4 telescopi da 8,2 metri si fa una prima valutazione per il CERO la SIA ma si conclude che bisogna andare da un'altra parte dove i cieli sono ancora migliori anche più lontani delle città viene fatta come al solito una campagna di site testing durante la quale viene anche valutata la possibilità di costruire il VLT in Namibia è un altro ottimo sito alla fine viene deciso per un certo numero di ragioni viene deciso di porre i telescopi al Cerro Paranallo vedete qui sulla cartina sono altri 600 e rotti chilometri a nord di La SIA siamo a 1200 chilometri a nord di Santiago molto più vicini alla costa del Pacifico abbastanza più vicini alla costa del Pacifico di La SIA sono solo 12 chilometri in linea d'aria e qui siamo in pieno deserto di Atacama il clima è molto più aspro è molto più ostile qui vedete due visioni in alto vedete sul fondo il Pacifico il campo base lì in centro la fotografia i quattro telescopi sulla cima del Cerro Paranala qui è stata fatta saltare la punta e sulla parte bassa della diapositiva vedete il campo base con la residenzia nel centro che è questo hotel interrato per ridurre al minimo l'impatto così visivo nella zona del deserto e sopra coperto da una cupola bianca che poi vedremo da vicino questa vi dà anche un'idea siamo nella precordigliera invece la cordigliera vera e propria la vedete sul fondo quella montagna bianca laggiù in fondo in alto leggermente sulla destra è il vulcano Yuyayaco che supera i 6.000 metri è a più di 100 chilometri di distanza ma la trasparenza dell'aria è tale per cui si vede si vede benissimo anche da Paranale questo è l'interno della residenzia ricordate quella cupola bianca è un posto straordinario è stato fatto un concorso internazionale per la realizzazione di questo hotel che è in sostanza un hotel in mezzo al deserto dove c'è nient'altro in giro nel raggio di centinaia di chilometri per mantenere l'umidità a Paranale è un posto estremamente secco l'umidità tipica è il 10% e la precipitazione è di qualche millimetro all'anno 10 millimetri all'anno quindi per confronto la mia regione io vengo dal Friuli in Friuli la media è 3000 millimetri all'anno quindi subito un confronto comunque siccome l'aria è molto secca e con un'annosfera secca non si vive molto bene all'interno almeno della residenzia viene mantenuta l'umidità in forma naturale con questo giardino e questa piscina nel mezzo che produce una certa evaporazione ufficialmente è il serbatoio dell'acqua per il sistema antincendio questo è il motivo per cui è stata costruita il vero motivo naturalmente può venire utilizzata anche per farci il bagno quando uno ha tempo diciamo durante il giorno ed è molto bello entrare dall'aperto entrare dentro diciamo in questa struttura perché improvvisamente uno si sente sente un'aria c'è questo profumo che sembra un po' di essere nella giungla tropicale l'interno è abbastanza umido dovete pensare che sulla montagna a regime vivono circa 140 persone la gran parte non sono astronomi la gran parte non lavora di notte non dovete pensare che è un piccolo paese in cui fino a tempo fa adesso è connesso alla rete nazionale ma ci si produceva anche l'energia elettrica si panificava l'acqua non c'è viene portata con dei camion ogni giorno da Antofagasta dal porto di Antofagasta il luogo è straordinario poi lo vedremo assomiglia molto molto a Marte per chi di voi c'è stato diciamo che non c'è stato lo puoi immaginare ma che c'è stato assomiglia molto a Marte i colori sono quelli l'unica grossa grande differenza è che in effetti si respira vedete il pacifico non si vede è sotto quelle nubi bianche qui siamo al tramonto vedete la silhouette di Paranal con i quattro telescopi da otto metri sulla cima non so se qualcuno di voi ha letto il racconto di Luis Pulveda che si chiama Le rose di Atacama un racconto molto triste un racconto anche molto bello e vi racconta che una volta all'anno il deserto di Atacama fiorisce il terreno è estremamente fertile solo che non c'è l'acqua però quelle poche volte in cui piove o si deposita l'umidità la vegetazione che si è adattata fiorisce queste sono le famose rose di Atacama e quella che vedete sul fondo è la residenza è l'hotel in cui dormono gli astronomi e anche il personale gli ingegneri il personale che lavora di giorno questa è una visione al tramonto il tramonto è sempre un momento magico perché è il momento in cui si spalanca la volta celeste le stelle lo sapete benissimo ci sono anche di giorno là sopra solo che l'astronomo ottico e infrarosso non può vederla a differenza dell'astronomo radio deve aspettare che cali il sipario che il sole tramonti e c'è sempre questa al tramonto lo vedremo poi si riuniscono gli astronomi fuori dalla sala di controllo a godersi il tramonto tutti con la speranza di vedere il raggio verde allora io ho trovato Gertrude Paul che è uno degli ingegneri di Panale è riuscito a fare questa fotografia in cui si vede un raggio verde e anche leggermente un raggio blu vedete che è proprio staccato staccato dall'orizzonte vedete il mare delle nubi qui il bordo di Paranal qui la montagna davanti e questo è questo flash verde credo di averlo visto una volta anch'io ma poi uno non è mai tanto sicuro se l'ha visto perché voleva vederlo perché c'era veramente un fenomeno abbastanza raro invece un fenomeno che si vede ogni sera è l'ombra della terra che è diciamo un concetto che mi è molto caro avete questa fotografia qui è fatta con il sole alle spalle stiamo guardando diciamo la direzione opposta quella che vedete salire è l'ombra della terra è l'ombra che la terra proietta sulla sua stessa atmosfera quindi c'è questa fascia e mentre lì si è lì la si guarda questa sale sale sempre di più poi a un certo punto scompare e scende la notte vedete la silhouette di Paranal con i quattro telescopi queste che vedrete adesso sono tutte fotografie fatte con una camera normale non è una camera seria diciamo ma una macchina fotografica normale vedete la via Lattea che domina il cielo è così luminosa diciamo che quando non c'è la luna la via Lattea è così luminosa quando è alta che si può leggere si riesce a leggere in sostanza che è una cosa inaudita diciamo nelle nostre regioni perché il cielo non è così trasparente anche in questa fotografia qui lo vedete quel fascio arancione poi ci tornerò che vedete è un raggio laser che esce dall'unità numero 4 che è equipaggiata con della strumentazione che invece usa quella che viene chiamata ottica attiva perché ci sono degli specchi che si deformano in continuazione e il laser crea un puntolino a 90 km di altezza dove c'è uno strato di sodio crea un puntolino che viene usato come stella di riferimento proprio vicino a dove si sta osservando e in questo caso sta osservando il centro galattico dove sapete c'è un buco nero che ha qualche milione di volte la massa solare che è valso il premio Nobel a Rainer Genzel e la sua squadra proprio qui a 100 metri di distanza dall'altra parte della strada al Max Planck Institut per la Fisica Extraterrestre lo dirò allo sfinimento la Via Lattea è uno spettacolo cioè io posso immaginare possiamo immaginare come si siano sentiti i navigatori non lo so Ferdinando Magellano Basco da Gama quelli che sono andati per la prima volta gli europei che la prima volta sono andati di là e conoscevano solo la parte nord della Via Latte hanno visto questo spettacolo le nuvi di Magellano che poi vedremo questa fotografia qui la mostro perché di nuovo è un simbolo siamo al tramonto c'è la grande impavesata di ESO con la bandiera di ESO e tutti gli stati membri che al momento sono 16 più un partner che è l'Australia che sta considerando di entrare a far parte di ESO rappresenta quello che cioè questo è proprio il messaggio diciamo sociale se vogliamo grandi risultati che si possono ottenere nella scienza solo grazie alla cooperazione alla condivisione delle risorse delle idee e della diversità che le nostre culture hanno e questo è il momento di cui vi parlavo quando gli astronomi si riuniscono lì sulla piattaforma ci sono anche delle panchine che sono state messe lì apposta perché uno si possa godere il tramonto la silhouette che vedete sulla destra è un telescopio ausiliare un telescopio da un metro e ottanta che è grande come il telescopio di Cimae che è il più grande telescopio sul suolo italiano che qui naturalmente scompare rispetto agli telescopi che ci sono a lato e questa è una vista d'assieme di Serro Paranal vedete in primo piano ci sono i quattro telescopi da otto metri quella costruzione un po' curva sulla sinistra è la stanza di controllo poi la vedremo dall'interno il telescopio un po' più colino in mezzo è il VST che vuol dire il VLT Survey Telescope è un telescopio costruito dagli italiani gestito in sostanza dalla costruzione dall'osservatorio di Capodimonte a Napoli è un telescopio a grande campo una specie di grande angolare ed era stato concepito per fare immagini a grande campo molto profonde per fornire i target al VLT quello che vedete laggiù in fondo invece su quell'altro picco che si chiama Vista Peak è il telescopio Vista che è un telescopio da quattro metri di costruzione britannica e lo ha costruito l'hanno costruito è stato costruito con il contributo della Gran Bretagna quando questa è entrata a far parte di ESO e anche questa fotografia è straordinaria questo è uno dei telescopi ausiliari vedete la Via Lattea e le due nubi di Magellano le vedete sulla destra appena sulla destra della cupola la piccola nube e un po' più sulla sinistra la grande nube di Magellano e la Via Lattea la Via Lattea è curva perché questa fotografia è fatta con un grand'angolo e anche questa foto è straordinaria questa è la cometa McNuff del 2007 con la silhouette di Paranal vedete la coda estremamente estesa la coda di ioni e la colla di polveri si vedono molto bene e sulla destra sulla sinistra vedete la piccola nube e la grande nube di Magellano si vedono ad occhio nudo si vedono veramente ad occhio nudo e io ci ho fatto una brutta figura la prima volta che sono andato in Cile ero con un amico e usciamo assieme la prima notte che uscivo fuori dal dormitorio prima di andare a osservare e dico ma mi avevano detto che questo sì qui in Cile non c'erano mai le nuvole ma è quelle là e lui fa idiota quelle sono sì delle nuvole ma sono le nuvi in Magellano non sono delle nuvi meteorologiche un'altra cosa di cui volevo parlare è il VLTI che sta per Very Large Telescope Interferometer l'interferometria è una cosa complessa stasera non staremo a discuterla però il concetto è che io posso raccogliere la luce da diversi telescopi come in questo caso e collegare attraverso dei tunnel sotterranei che sono disegnati con quelle righe bianche e combinarli in un unico punto dove c'è quella stanzina dove finiscono quelle cose e non combinarle così come si dice in forma incoerente ma farle interferire immaginatevi che ci sono queste onde che arrivano che sono i fotoni in sostanza ma che possono essere descritti come delle onde se si combinano in fase si sommano se si combinano in discordanza di fase si annullano e siccome hanno tutte la stessa lunghezza d'onda e se si conosce esattamente qual è il percorso che dal telescopio devono fare per arrivare fin lì e si è in grado di tenerlo costante è possibile ricostruire i dettagli dell'immagine dell'oggetto da cui vengono con un dettaglio estremamente maggiore di quanto si faccia invece con la luce incoerente tanto che la risoluzione equivalente che è dettata lo sapete dal diametro più grande è lo specchio in termini di diametro e migliore è la risoluzione quindi il livello di dettaglio che si può raggiungere la risoluzione equivale a quello di avere uno specchio grande come la massima distanza fra i telescopi in questo caso 130 metri quindi il VLTI raggiunge la risoluzione teorica di uno specchio da 130 metri di diametro che è una cosa che molto probabilmente non avremo mai ci vorrà ancora un sacco di tempo e questa cosa ovviamente è molto complessa qui vedete questo è uno dei laboratori in cui si combinano i fasci la grande difficoltà è tenere il percorso della luce costante per cui è importante essere in una zona quieta e che ci sia l'isolamento terrico non solo ma ci sono dei dispositivi che muovono degli specchi e controllano con metrologia estremamente accurata queste distanze queste linee di ritardo si chiamano che permettono di ricostruire delle immagini con una risoluzione che è sotto il millisecondo arrivano addirittura al milionesimo di secondo d'arco in certi casi qui ci sono altre immagini della via Latte ripeto sono tutte immagini vere e mi soffermo un attimo su questa perché questa è questa è l'unità numero 4 e vedete queste quattro spade laser che escono nella fotografia di prima ce n'era una sola quella era la prima fase di testing adesso ce ne sono quattro se non tutte fuoriescono dall'unità numero quattro formano quattro stelle di riferimento come vi dicevo 90 chilometri di altezza e servono per correggere in maniera ancora più fine le deformazioni del fronte d'onda introdotte dall'atmosfera terrestre e questo permette ad esempio di risolvere dettagli nelle zone circostanti del buco nero ad esempio o di poter risolvere cioè distinguere maggiori dettagli che altrimenti non si potrebbero vedere qui c'è un esempio il telescopio è così grande che non si riesce mai questo è uno dei quattro telescopi non si riesce mai a fare una fotografia se non con un grandangolo che le deforma moltissimo del telescopio vedete ci sono due uomini su un sollevatore sono vicini al telescopio scusate allo specchio M3 che è quell'ellisse che si vede in centro inclinato a 45 gradi che manda la luce a un fuoco oppure ruotandolo di 180 gradi non manda dall'altra parte vedete in alto a sinistra il sostegno dello specchio secondario lo specchio secondario del VLT ha un metro e venti di diametro cioè è grande il secondario del VLT è grande come lo specchio del telescopio Galileo di Asiago vedete la struttura è molto compatta la lunghezza focale del telescopio equivalente circa 130 metri quindi fate il confronto con i telescopi degli astrofili che hanno qualche metro di lunghezza focale questo vi dà l'idea di quanto diciamo quanto grande sia questa struttura il telescopio pesa 400 tonnellate ma si muove diciamo è appoggiato su due piastre metalliche sospese con l'olio e diciamo si muove in maniera con grandissima precisione con un minimo sforzo un telescopio da solo naturalmente uno non se ne fa nulla sarebbe come avere un bellissimo obiettivo da macchina fotografica e non disporre di una camera fotografica con l'obiettivo non ci faremmo granché ed è per questo che è importante avere la strumentazione quello che vedete qui è probabilmente uno degli strumenti più complessi e anche uno degli strumenti più richiesti dalla comunità si chiama Muse è composto e vedete che sembra questa cosa sembra una di quelle macchine di Matrix che inseguono gli uomini invece è un sistema di 24 spettrografi in parallelo ed è in grado di fare di prendere spettri a elementi diciamo spaziali molto piccoli per cui produce delle immagini tridimensionali in cui le due dimensioni sono le due dimensioni comuni e la terza dimensione è la lunghezza d'onda che può essere poi interpretata anche in termini di velocità per cui consente ad esempio studi cinematici di galassie cioè determinare il modo in cui una galassia e le sue componenti ruotano con un'unica esposizione cosa che una volta era impossibile uno doveva fare dei singoli puntamenti e ci voleva una vita e lo strumento è molto sensibile ed è uno degli strumenti che tutti gli altri osservatori del pianeta ci invidiano la richiesta su questo strumento è estrema diciamo è molto difficile avere il tempo questa fotografia è carina perché vi mostra è una fotografia che tutti avevano cercato di fare lasciamo la macchina fotografica ferma sul cavalletto esponiamo per qualche ora e vediamo cosa succede ed è esattamente quello che è stato fatto qui vedete il polo sud dove non c'è una stella brillante come il polo nord la croce del sud diciamo è un po' fuori e vedete però un'altra cosa la latitudine noi siamo abituati a vedere il polo nord ceste molto molto in alto qui invece siamo a circa 24 gradi latitudine sud per cui il polo è molto più basso sull'orizzonte vedete anche le cupole durante la posa si sono mosse hanno lasciato quelle strisce facciamo un breve intermezzo musicale non ascolterete nessuna musica l'avrete riconosciuto questo personaggio questo è Brian May il chitarrista dei Queen perché è lì perché lui lo sapete ha un PhD in astrofisica ed è stato invitato è venuto a Paranala ha fatto un concerto a Santiago del Cile ed è stato invitato a Paranala in alto a sinistra siede nella stanza di controllo e lì in basso a destra diciamo in uno dei VLT era estremamente eccitato e aveva pregato tutti che non gli parlassero e gli chiedessero di musica ma che parlassero e gli chiedessero soltanto di astrofisica e di astronomia l'ho voluto mostrare perché questo non c'entra molto cioè c'entra e non c'entra con l'astronomia ma anche per dirvi che diciamo l'ambiente è piuttosto interessante ecco perché succedono anche queste cose lì nella fotografia lo vedete in alto a sinistra è seduto nella control room la control room questa è una delle quattro control room quindi quattro telescopi hanno le stanze di controllo nello stesso edificio sono solo divisi da dei separati come potete immaginare di sotto c'è comunque un gran silenzio a ogni telescopio ogni notte c'è un telescopio un operatore del telescopio che è un ingegnere e un astronomo di servizio e poi quando ci sono che è sempre on duty sempre di servizio e quando ci sono dei visitatori cioè degli astronomi che vengono dall'Europa o dall'America o da tutto il mondo sono anche anche loro stanno seduti lì e hanno la loro console e lavorano diciamo durante la nato e questa è un'altra immagine in cui volevo mostrare un po' meglio come si vedono i laser che escono da OT4 questa è una fotografia fatta da molto più vicino vedete il sistema vedete Muse lo spettrografo è lì sulla sinistra è proprio Muse è uno degli strumenti che fa uso dell'ottica adattiva in modo che lui riesce a fare queste immagini questi spettri diciamo dove risolve i singoli fa degli spettri per ciascuno elemento spaziale e con una grande risoluzione spaziale proprio perché riesce c'è uno specchio che si deforma in tempo reale e viene la deformazione viene controllata tramite queste quattro stelle di riferimento vedete queste queste fasce arancioni che escono si vedono ad occhio nudo non serve fare una posa qui ovviamente la posa è così lunga che i laser illuminano anche e i riflessi illuminano anche l'interno della cupola ma si vedono anche ad occhio nudo questa è una di nuovo una delle rose di Atacama la vedete fiorita vedete la cupola sul fondo e questa mi richiamava molto quando ho preparato questa presentazione un ambiente diciamo così da guerre stellari o insomma da un po' fantascientifico e queste due questa fotografia e quella dopo le ho collegate assieme le ho messe una dietro l'altra perché questa sembra una cosa sembra una costruzione finta invece no è un test vero vedete Paranal i telescopi lassù in alto a destra e in primo piano vedete il Bridget rover che era il Bridget di Mars Express questa missione di ESA e i test sono stati fatti qui a Paranal vedete il suolo effettivamente assomiglia moltissimo anche la conformazione rocciosa il colore del cielo non è esattamente quello e c'è l'aria diciamo però assomiglia molto l'ambiente assomiglia molto a quello marziano ed è proprio per questo vedete una curiosità di questi sassi grossi che ci sono nella superficie in giro non ci sono montagne da cui questi sassi siano cascati non si chiede dove siamo venuti in realtà lungo tutto la Panamericana in generale quella regione di deserto ci sono queste grosse pietre alla superficie sono state portate alla superficie dai grandi terramoti sapete che il Cile è una regione estremamente sismica è come avere dei sassolini in un secchio in una bacinella di sassi in una bacinella di sabbia se agitate la sabbia vedete che dopo un po' i sassi vengono alla superficie come vedete sono anche molto levigati perché poi il vento soffia la polvere che diciamo è piuttosto con questo passiamo per adesso di cui vi ho mostrato quello che ESO ha fatto negli anni 60, 70, 80 e 90 e anche diciamo fino agli anni 2000 dopodiché naturalmente un'organizzazione come questa deve sempre avere un progetto e vista la scala di tempo che è necessaria per realizzare questi telescopi prima di aver finito il progetto che sta portando avanti deve già iniziare a pensare al progetto successivo perché probabilmente ci vogliono 30 anni per realizzarla quindi nell'ultima parte della mia presentazione vi parlerò naturalmente dell'Extremely Large Telescope quindi con un nome che ancora diciamo non è così originale noi in italiano siamo un telescopio estremamente grande chissà un giorno forse gli daranno un nome che è questo quello che vedete qui adesso in questa fotografia è una il fondo è reale tutto quanto è reale la montagna la strada è reale ma il telescopio invece è stato piazzato sopra con un computer ma è quello che avremo purtroppo la pandemia come tante altre cose ha ritardato perché il cantiere si è fermato ha ritardato di più di un anno la cosa adesso come adesso la prima luce è prevista per il 2027 l'idea della grandezza del telescopio l'avete confrontando con quelle persone che ci sono sulla sinistra e con quel furgone rosso che vedete lì poi ce ne renderemo conto meglio c'è anche un camion che sta entrando lì diciamo nell'ingresso non potevo non posso parlarvi di l'ILT senza parlarvi di Roberto Tamai che è il il project scientist è italiano e di Napoli lui ha curato anche la costruzione del BLT e gli è stato affidato il compito di realizzare anche l'ILT ed è stato gentile perché oggi mi ha dato delle fotografie le più recenti che ci siano che sto per mostrarle allora per mettere probabilmente questa fotografia l'avete già vista perché ha fatto un giro soprattutto diciamo in ambiente italiano questo mette a confronto il BLT che avete visto fino adesso che è nel centro della fotografia con il Colosseo sulla destra e l'ILT sulla sinistra vedete che la cupola raggiunge un'altezza diciamo che supera gli 80 metri è veramente una costruzione enorme cioè stiamo stiamo confrontando con uno stadio e uno stadio coperto con la differenza che mentre uno stadio non si muove invece questo la copertura di uno stadio non si muove questo dovrà ruotare assieme al telescopio ora questa fotografia mi è molto cara perché raccoglie due cose in alto a sinistra vedete il telescopio Galileo dell'osservatorio astrofisico di Asiago che fino al 1948 è stato il telescopio più grande d'Europa da un metro e venti l'abbiamo detto prima vedete la sua cupola il telescopio lì all'interno non si vede e quello che vedete in basso a destra invece è una costruzione c'è stata una manifestazione così anni fa in cui erano dei ragazzi della scuola hanno usato degli esagoni di cartone da un metro e venti che sono quelli cioè ciascuno di quegli esagoni ha uno specchio grande come il metro e venti che c'è dentro la cupola del telescopio astrofisico di Asiago e vedete che questa è una simulazione di quanto grande sarà lo specchio dell'ILT e vedete che è più grande della cupola che ospita dell'intero edificio che ospita il telescopio da un metro e venti che è stato il telescopio più grande d'Italia è il secondo telescopio italiano e il più grande telescopio d'Europa fino al 1948 mi è caro perché la mia tesi di laurea l'ho fatta in parte usando quel telescopio da diversi anni allora quando ovviamente si è deciso di iniziare il progetto di ILT cosa che succedeva prima che il DLT avesse la prima luce quindi diciamo i due progetti si sono intersegati naturalmente si è cercato un sito Paranal che vedete sulla sinistra questa è una vista dal satellite era già troppo occupato non c'è più spazio per mettere un telescopio di quella grandezza anche perché non volete fare in modo che interferiscano in termini di turbolenza uno con l'altro se uno è sottovento riceve la turbolenza dell'altro quindi questa cosa non la volete è stato individuato un altro picco che si chiama Cerro Armassone se lo vedete in alto a destra vedete anche la strada che è stata fatta per la linea scura per raggiungere la sommità e la spirale per salire in cima alla montagna questa fotografia aerea li mostra entrambi vedete in primo piano in basso a destra vedete il Paranal il campo base un po' in ombra poi i quattro telescopi poi vedete un po' sulla sinistra il telescopio vista e poi a destra scusate a sinistra verso sinistra si vede appena poi lo vediamo meglio si vede appena il Cerro Armassone c'è una strada che va su a zigzag la montagna ancora non era stata tagliata quindi questo vi dà un'idea e sul fondo laggiù in fondo si vede il vulcano Giulia Iaco che ha questo nome strano di cui abbiamo parlato prima questo di nuovo mi mostra la conformazione diciamo geologica del sito estremamente secco vedete non c'è un filo di nulla assolutamente ci sono solo pietre e lassù in alto vedete la montagna del Cerro Armassone poco più di 3000 metri con questa strada che sale a zigzag erano già iniziati qui i lavori di quando è stata tagliata la punta ma la strada ancora a spirale non era stata costruita come potete immaginare siamo a 3000 metri di altezza quindi questa ditta che ha lavorato ha costruito ha spianato la montagna è una ditta che normalmente costruisce dighe in mezzo al deserto si tratta di avere personale che lavora a 3000 metri di altezza quindi siamo con tutte le difficoltà che ci sono un altro problema è che uno non può fare un'esplosione unica perché altrimenti la montagna si frattura non volete rovinare la base dove vuoi appoggiare questo telescopio per cui vengono fatte delle perforazioni e delle microesplosioni e quindi si va via un pezzo alla volta ci sono portati via 17 metri dall'altezza originale diciamo al piano di calpestio attuale che è questo mentre la montagna è stata spianata livellata e costruita una strada che abbia una pendenza una curvatura sufficientemente bassa perché dovevamo ricordare che là sopra ci dobbiamo portare circa 800 specchi e tutta l'attrezzatura tutta la meccanica quindi che deve arrivare dall'Europa quindi serve una strada che abbia diciamo che sia agevole che sia facile diciamo da utilizzare questa fotografia che mi ha dato Roberto questa mattina è fatta recentemente e anche questa è interessante questa fotografia qui è fatta poco prima dell'alba infatti vedete che c'è il cielo ancora stellato sta sorgendo diciamo il sole fosse appena assorto in effetti e vedete il serro paranale in alto a destra con uno dei raggi laser che esce quindi si vedono si vede molto bene vedete anche si vede leggermente il campo base e vedete qual è lo stato quindi è stato costruito già gettato completamente l'anello su cui appoggerà diciamo la struttura portante mentre il telescopio appoggerà in maniera indipendente dal resto ovviamente dal resto della costruzione in modo che quando la cupola ruota non faccia tremare anche il telescopio e questo è questo è l'ILT come sarà quando sarà realizzato e avrà come vedete non quattro laser ma quindi se ne vedono otto perché il campo da coprire è molto più grande e qui ci fermiamo un attimo perché perché è necessario avere tutti questi laser perché quello che succede è che il fronte d'onda di luce che vi arriva quando avete un telescopio molto piccolo che è un telescopio da 20 centimetri il fronte d'onda interessato ha un diametro di 20 centimetri immaginatevi un cilindro che parte dal telescopio ed esce fino a fuori dell'atmosfera quello che succede al di fuori di questo cilindro dell'atmosfera non vi interessa interessa solo quello che succede lì dentro siccome questo campo è piccolo potete immaginare che lì dentro tutta l'atmosfera si muove allo stesso modo per cui è abbastanza semplice correggere a livello che per telescopi molto piccoli di fatto la qualità del SING è migliore rispetto a un telescopio grande proprio perché diciamo l'atmosfera all'interno di quella regione può essere considerata stabile quando invece il vostro telescopio il vostro specchio è grande come mezzo campo da calcio che è il caso dell'ILT un pezzo di specchio vede un cielo che è diverso dall'altro cioè il vostro cilindro è enorme quindi può essere che la turbolenza che c'è sul lato destro dello specchio sia completamente diversa dalla turbolenza che c'è sul lato sinistro dello specchio per cui correggere con una sola stella di riferimento non vi porta a nessun risultato o a un risultato molto mediocre per questo è necessario avere delle stelle di riferimento che diciamo coprano più o meno tutto questo grande cilindro di cui ho parlato e da qui nasce la necessità di averne a Paranale hanno messo i quattro qui ce ne sono otto e avremo queste grandi spade laser che escono dal telescopio quando useranno gli strumenti con l'ottica adattiva cosa che succederà praticamente sempre questa di nuovo è una visione in cui vedete la struttura questa è una simulazione fatta dal computer naturalmente e si vedono diverse cose interessanti vedete sul fondo la parte riflettente sono questi segmenti di vetro ricoperti di alluminio quindi questo è lo specchio diciamo e vi ricordate quell'immagine fatta all'osservatorio di Asiaga dove c'erano dei pezzi di cartone che sono esattamente quelli sono quasi 800 e vedete la struttura metallica che regge lo specchio secondario ora chi tra di voi possiede un telescopio magari molti di voi ne hanno che costruito uno praticamente normalmente avete uno specchio primario uno specchio secondario negli telescopi amatoriali raramente c'è un terzo specchio cosa che invece c'è nel DLT qui gli specchi in totale sono 5 e nella figura successiva lo vediamo vedete avete lo specchio qui è tolta tutta la montatura e tutta diciamo la struttura che regge i pezzi soltanto per farvi capire come funziona c'è il campo da calcio dei specchi che è quello che raccoglie la luce la fa convergere mentre uno specchio concavo la fa convergere sul secondario il secondario ha 4,2 metri di diametro cioè il secondario è grande è un grosso equivalente allo specchio di un grande telescopio sulla Terra ed è uno specchio converso poi lo vediamo fa convergere i raggi che passano attraverso l'M4 che ha un buco in centro vedete in centro vanno giù sull'M3 vengono riflessi all'indietro vengono intercettati da M4 piegati su un lato e poi c'è M5 che manda la luce o da un lato oppure dall'altro quindi a destra c'è scritto Science Instrument Platform a destra e a sinistra le due piattaforme che vedete a destra e a sinistra sono grandi quanto un campo da tennis ciascuna delle due quindi immaginate anche questo di nuovo vi dà l'idea di quanto diciamo di quanto grande sia questo telescopio lo specchio lo specchio M3 è uno specchio adattivo quindi un grande specchio che sarà in grado di deformarsi in tempo reale questo lo vedremo meglio circa le dimensioni allora il telescopio peserà 3400 tonnellate lo ripeto perché 3400 tonnellate vedete avrà un diametro alla base la piattaforma di 50 metri è un'altezza di circa 65 il telescopio è una massima diciamo distanza tra i bordi delle due piattaforme di 70 metri nonostante questo sarà in grado di puntare con una precisione RMS di circa 0,3 arcosecondi che corrisponde più o meno all'angolo sotteso da una monettina da un euro piazzata a 10 km di distanza quindi questo è un'altra cittura anche questa fotografia me l'ha mandata Roberto e per la prima volta direi che nella storia si ha per costruire un telescopio l'industria ha fatto una vera propria catena di produzione industriale cioè tutti i supporti che reggono ciascuno dei circa 800 quasi 800 elementi deve venire costruito assemblato l'uno deve essere identico all'altro quindi vedete questi scatoloni sulla destra col timbro di ESO in cui vengono prodotti questi pezzi in serie praticamente ed è la prima volta che succede e poi mandati a ESO e qui vedete i pacchi dei singoli segmenti di vetro poi ne vedremo dei singoli che vengono preparati dalla Schott che è una ditta tedesca specializzata nella produzione di vetro zero dur diciamo cioè il vetro che è quello che ha un bassissimo coefficiente di dilattazione termica ed è non si è mai vista una cosa simile cioè una produzione di in serie di decine decine in questo caso di centinaia di specchi che poi non sono tutti uguali fra loro perché i vari anelli hanno sono fatti in modo in modo diverso e questa è una fotografia di pochi giorni fa fatta qui nell'officina all'interno di quella costruzione rotonda di 39 metri di diametro che vi ho mostrato all'inizio dove c'è l'assembly hall dove vengono fatti i test per i supporti che reggono questi specchi dovete immaginare che questi specchi verranno la loro forma verrà controllata localmente perché avete immaginate questo mezzo campo da calcio su una struttura metallica che si muove per puntare le regioni del cielo che vi interessano gli specchi anche la struttura si deforma naturalmente gli specchi si deformano sotto l'azione della gravità avete bisogno di correggere nella forma e quindi ci sono questi attuatori ciascuno all'interno di ciascuno di questi di questi specchi la storia non finisce qui voi sapete che gli specchi vanno puliti e rialluminati di tanto in tanto cioè lo strato riflettente che viene deposto sulla loro superficie si ossida si copre di polvere a volte c'è della condensa di umidità che si mischia la polvere quindi lo specchio si sporca quindi questi specchi vanno tolti certo che vanno tolti vanno tolti da là dove si trovano ma sono in mezzo a un campo da calcio quindi vanno prelevati dall'altro con un sistema non ci può andare un uomo ci vuole un essere umano ci vuole una gru che va da dentro e con grande precisione agganci lo specchio che è un pezzo di vetro quindi insomma non è un pezzo di ferro lo tolga da dove si trovi lo sollevi sopra lo porti fuori e questo specchio venga lavato pulito e nel frattempo sostituito in modo che durante la notte non resti con questo buco sostituito con un altro e questo ha rotazione il piano di fare ogni giorno la pulizia e la sostituzione di un pezzo siccome ovviamente ci sono 800 pezzi facciamo 900 per fare un conto rapido ci vogliono 3 anni circa 3 anni per fare il ciclo completo di tutti gli specchi qui a Garking in questo momento stanno facendo questi test che vedete qui con questo macchinario che stanno sperimentando per capire quanto precisamente riescono a prendere il pezzo e dovete immaginare questi pezzi di vetro sono messi uno vicino all'altro con una sottile fessura fra uno e l'altro e quindi quando le togliete non devono forzare l'uno con l'altro insomma il sistema è abbastanza complesso e stanno facendo proprio dei test anche con la realtà virtuale cioè l'operatore che ha questo visore e diciamo mette e toglie i pezzi questi vedete i pezzi di vetro come vengono prodotti alla shot sono inizialmente sono dei pezzi rotondi vengono lavorati dai macchinari rotondi vengono lavorati sulla superficie e poi vengono tagliati in esagoni poi vengono impacchettati ciascuno nella propria cella e montati e portati fuori qui vedete un esempio finito questo sono io nel laboratorio io non a essere onesti non ho molto a che fare con queste cose qui ero ospite come uno e molti altri e mi hanno permesso di andare a guardarli a guardarli da vicino proprio qui dove li assemblano questo è lo specchio M2 che dice abbiamo visto che è uno specchio convesso che è quello che viene appeso lassù in alto a circa 50 metri cioè ha un'altezza tremenda rispetto allo specchio principale e ha oltre 4 metri di diametro lo vedete è molto sottile e nella prossima slide vedete anche la struttura che lo sosterrà lo specchio verrà attaccato questo invece è M3 M3 appunto lo vedete è questo specchio con questa struttura molto molto particolare e qui vedete il supporto di M4 prima mi sono sbagliato ho detto che M3 è attivo e è adattivo invece M4 che è adattivo a tutti questi cilindri e questi attuatori quelle cose rosse lo specchio è appoggiato di sopra e questi in tempo reale lo fanno deformare gli fanno cambiare la forma uno specchio molto sottile lo vedete qui montato tra l'altro M4 è quello che è anche scusate questo è quello che è anche il buco nel centro da cui passa la luce poi diciamo da una parte poi viene riflessa quando torna indietro e anche questo vi dà un'idea delle dimensioni vedete i due i due esseri umani che ci sono sotto la piattaforma da un lato e qui col CAD ci hanno separato il telescopio vedete che ha queste grandi due ruote che appoggiano di là che sono quelle che poi gli permetteranno di fare il movimento in altezza mentre tutta la piattaforma di sinistra gli permette il movimento avvenutale quindi è possibile con i due movimenti combinati coprire ogni regione del cielo e questo è un particolare della struttura metallica la struttura metallica dobbiamo essere nei fieri viene costruita dalla Cimolai che è una ditta italiana con sede a Pordenone in Intervio di Venezia Giulia che è specializzata in costruzioni metalliche di alta tecnologia ha fatto anche la copertura dello stadio di Tokyo ma ha anche fatto il sarcofago della centrale di Chernobyl quindi diciamo è specializzata a fare cose di alta tecnologia in metallo in questo momento sta assemblando i pezzi questi pezzi metallici che reggeranno la struttura ora un breve accenno a quello che faremo con l'ILT lo voglio fare allora mi ero ripromesso all'inizio e credo di esserci riuscito di non aver messo nessuna parola scritta nelle slide nessuna formula e nessun diagramma perché volevo che fossero le immagini e il mio commento a raggiungervi senza altri senza altri accessori e avevo però promesso a Luigi che qualcosa sui progetti scientifici l'avrei detto anche se questa sera ho preferito restare proprio sull'aspetto così tecnologico e anche sul significato che l'organizzazione europea per la ricerca astronomica ha in termini di investimento e del ritorno che ha perché è anche un'istituzione che fornisce training fornisce lavoro a l'ESO al momento 740 dipendenti è una cosa che non ho detto quindi è una piccola industria ed è l'organizzazione per l'astronomia da terra non per quella spaziale ma per l'astronomia da terra è l'organizzazione più grande del mondo la gran parte del personale sono ingegneri ottici elettronici otto elettronici meccanici del software ed essendo un'organizzazione internazionale da lavoro a personale che viene da tutti gli stati europei questo naturalmente crea un ambiente estremamente diverso nel senso di diversificato in cui anche i giovani trovano quelli che hanno desiderio diciamo di intraprendere una carriera scientifica soprattutto di tipo sperimentale trovano il posto per poter realizzare questi desideri questo desiderio questa passione così come l'ho fatto io la missione scientifica di ESO è quella di costruire ed operare grandi telescopi da terra per poter rendere possibile alla comunità europea di essere competitiva con gli altri questa era la missione è il punto da cui sono partito quando ho iniziato questa conferenza quando vi ho mostrato quella fotografia in cui c'era Jan Hort e questi astronomi che si sono messi giù assieme a pensare come e dove avrebbero potuto realizzare questo telescopio e da quell'idea seminale siamo arrivati al punto in cui l'Europa è leader nella costruzione del telescopio che sarà il più grande telescopio al mondo e resterà tale per molti anni ci sono due progetti americani entrambi sono più piccoli entrambi sono molto più indietro in termini di avanzamento la competizione è sempre una buona cosa però in questo caso per fortuna saremo una volta tanto saremo i primi e con il telescopio più grande che cosa ce ne faremo di questo telescopio beh ci sono moltissime domande a cui vogliamo dare una risposta ovviamente un telescopio così grande permette di osservare oggetti estremamente deboli e quindi oggetti estremamente lontani e come sapete osservare oggetti lontani siccome la velocità della luce è grande ma è quella che è osservare indietro nello spazio vuol dire anche guardare indietro nel tempo e quindi si faranno si farà un grande passo avanti in termini di delle scoperte che si potranno fare riguardo all'origine dell'universo la forse tutta la formazione delle galassie ma non solo un telescopio di queste dimensioni con questo potere risolutivo grazie all'ottica adattiva ci permetterà di osservare i pianeti extrasolari quindi pianeti che circolano attorno a stelle che non sono il sole e addirittura con molta probabilità almeno dei più vicini di fare di ottenere la spettroscopia cioè di fare l'analisi chimica delle loro atmosfere e con questo come potete immaginare ci porta nella direzione di capire se queste atmosfere hanno materiale organico e quindi diciamo se possono potranno o ospitano la vita insomma quindi questa sarà una delle grandi domande e poi ci sono molti problemi aperti nell'evoluzione stellare anche addirittura all'interno del sistema solare uno diceva un telescopio così grande sì no all'interno del sistema solare ci sono molti corpi molto piccoli soprattutto verso le zone esterne del sistema solare proprio verso la nube di Oort per tornare al nostro padre spirituale in qualche modo che non si possono osservare con telescopi molto piccoli la formazione delle galassie la formazione delle stelle la dinamica delle galassie ci sono moltissimi problemi aperti e poi in astronomia per fortuna resta sempre questa grande componente dell'ignoto quindi nessuno quando costruisce un telescopio sa esattamente quello che vedrà l'esempio di Galileo è diciamo il più chiaro di tutti Galileo costruisce un telescopio copiando l'idea o elaborando e migliorando l'idea di qualcun altro gli viene la grande ispirazione di puntarlo al cielo cosa che nessuno aveva fatto prima non sapeva quello che avrebbe trovato non ha costruito un telescopio perché voleva dimostrare qualcosa punta al telescopio e fa un numero di scoperti che non si aspettava scopre che la superficie della luna è piena di montagne scopre che venere alle fasi scopre che il sole alle macchie solari ruota su se stesso scopre che la via galatea non è una cosa una cosa lattiginosa ma è ha un'abbondanza sono tutte stelle quelle che vede e prima non lo sapeva pubblica il Siderio Snuncius che è destinato a rivoluzionare il modo in cui vediamo il mondo ma prima non lo sapeva ed è così ogni volta che costruiamo un telescopio grosso e certo quando costruiamo un telescopio così grande abbiamo bisogno di avere dei soldi dobbiamo dimostrare questo telescopio costa più di un miliardo di euro per intenderci quindi bisogna dimostrare a chi ti dà i soldi che hai un'idea abbastanza chiara di quello che te ne vuoi fare resta però ed è inevitabile e per fortuna è così resta una parte che non sappiamo il telescopio punterà da qualche parte a un certo punto vedremo delle cose che non ci aspettavamo forse le teorie che avevamo in mente verranno si proverà che sono sbagliate e vedremo delle cose che non abbiamo mai visto prima come ha fatto Garmelo e su questa nota io vi lascio finisco poi se ci sono delle domande naturalmente sarò contento di rispondere trovate tutte le immagini che vi ho mostrato le trovate tutte sul sito di ESO www.eso.org e poi c'è un sito che si chiama ilt.eso.org che è specifico dove c'è materiale di autrice ma soprattutto rinnovate delle spiegazioni molto semplici su ciascuno dei suoi componenti e anche sui casi scientifici per cui andate guardate scaricate tutto quello che vi serve vi lascio con questa ultima slide che non è una slide di ESO ma è una fotografia che ho fatto a un topolino che ho letto quest'estate dove Paperino dice ma da qualche giorno mi sto dedicando l'osservazione astronomica e Paperone gli dice bah l'ennesima perdita di tempo degna di te e su questa nota vi ringrazio per l'attenzione grazie Nando facciamo un applauso virtuale anche se non possiamo applaudire tutti insieme comunque l'applauso ci sta io mi è rimasta una curiosità probabilmente me lo sono perso ma il primario anche lui è adattivo o è solo il quarto che è attivo scusa allora il quarto il quarto è adattivo nel senso che vibra a una frequenza di centinaia di volte al secondo invece il primario è attivo come quello di NTT diciamo la differenza è che ciascun segmento singolo viene controllato per conto suo su scale piccole diciamo quindi viene corretto sia diciamo nella sua orientazione globale ma anche nella sua forma ma non in tempo reale cioè la correzione tipica come al VLT diciamo è dell'ordine qualche volta al minuto quindi una correzione lenta grazie Nando ho una domanda è detto che i lavori adesso sono fermi per via della penso della pandemia c'è un'idea di quando potranno riprendere? sono contento di annunciare che sono appena ripresi di fatto non hanno ancora raggiunto il la massima diciamo presenza sulla montagna ma ci stanno avvicinandosi e hanno iniziato due o tre settimane fa quindi si è in ritardo circa di due anni via mal contato sì purtroppo si tutta la perché dal momento in cui è iniziata la pandemia in Europa c'è stato un certo ritardo prima che arrivasse in Cile però il Cile è stato colpito soprattutto nella fase iniziale in forma abbastanza seria perché il sistema sanitario diciamo non è quello europeo quindi diciamo ci sono dei problemi in particolare gli osservatori l'osservatorio è rimasto chiuso e c'è stato un caso di positività subito nel personale è stato chiuso tutto abbandonato tanto che anche diciamo qui in Italia poi i lavori si sono rallentati alla Cimolai per gli stessi motivi poi loro hanno ripreso e si sono accumulati sono accumulati i pezzi di ferro diciamo sono rimasti lì non venivano mandati in Cile perché poi immaginate vengono caricate su una nave probabilmente a Genova e poi se ne vanno devono attraversare il canale di Panama però siccome dall'altra parte tutto era fermo sono rimasti in Italia però adesso diciamo l'attività è ripresa sì diciamo un anno e me 18-24 mesi di ritardo è ripresa anche l'attività scientifica oppure soltanto questa diciamo attività edilizia chiamiamola così no gli osservatori tutti i due gli osservatori la SIA e Paranal sono rimasti completamente chiusi per sei mesi completamente evacuati e l'osservatorio diciamo è stato messo cosa che non era mai successa prima è stato è stato proprio tutte le cose sono state spente perché diciamo c'è una certa parte della strumentazione che ha bisogno di stare a temperature criogeniche ci volete una settimana per portare la temperatura ambiente e una settimana per riportarla in operazione e diciamo di solito questa cosa non viene mai fatta in questo caso hanno dovuto evacuare tutto quanto quindi hanno dovuto riscaldare gli strumenti l'osservatorio è stato messo in uno stato di diciamo di ibernazione tanto che quando è stato riaperto i telescopi non erano mai stati disegnati per restare fermi più di qualche ora perché i telescopi appoggiano praticamente sono due lastre metalliche una sopra l'altra con un olio tenuto a pressione fra una e l'altra quindi girano così e quando tu spegni tutti i sistemi idraulici le due piastre l'olio viene tutto schiacciato fuori naturalmente le due piastre restano aderenti una sull'altra il timore dopo sei mesi era che si fossero a detta così diciamo brutalmente si fossero incollati no perché il sistema non era cioè non c'era nelle specifiche che un telescopio dovesse stare fermo per sei mesi che succedesse questa cosa in realtà è andato tutto bene li hanno fatti ripartire uno alla volta col personale estremamente ridotto sulla montagna quindi operavano un solo telescopio e avevano sulla montagna 30 persone anziché 130 quindi questo ti dice c'erano veramente al minimo operavano un solo strumento anziché tre che ogni telescopio ha tre strumenti e quindi si è andati avanti diciamo facendo ripartire un telescopio alla volta nel giro di sei mesi hanno ripreso a farlo la campagna vaccinale in Cile inizialmente è andata molto bene il Cile ha fatto un accordo con la Cina quindi loro avevano il vaccino cinese hanno ripreso prima di noi in sostanza hanno ripreso prima di noi tuttavia siccome il sistema sanitario è quello che è e diciamo l'osservatorio doveva garantire la sicurezza tipo ad antofagasta c'è un posto di terapia intensiva un posto di terapia intensiva quindi non poteva garantire questa cosa quindi poi i voli anziché volare con le compagnie di bandiera volavano con i voli charter per poter permettere e avevano un permesso speciale dal governo cileno anche quando c'era il lockdown a Santiago potevano operare quindi sì l'attività scientifica è rimasta completamente ferma per sei mesi e poi è ripresa adesso in questo momento mentre parliamo è praticamente tornata alla normalità ma questo è positivo caso mai uno dei gruppi i nostri gruppi astrofili volessero lanciarsi verso una gita è possibile è possibile è già qualcosa sperando di uscire un po' da questa epidemia che ci sta un po' tormentando direi da due anni lo speriamo tutti non so Marco se ci sono altre domande ma guarda a parte vabbè gli applausi e i complimenti ne vedo una che chiedeva la lunghezza focale di questo telescopio mi sembrava l'avessi detta adesso non mi ricordo il numero 130 no 130 la lunghezza focale del VLT mi cogli imparato per quello che riguarda l'ILT ma te lo posso trovare poi te lo dico ok immagino sia più grande di così bene io a questo punto lascio la parola a Luigi per i saluti finali e grazie a tutti ci sentiamo alla prossima nel frattempo ho la risposta alla domanda nel frattempo la risposta alla domanda la lunghezza focale dell'ILT è 743 metri ecco anche questo ti dà un'idea un pelo superiore un pelo superiore quindi per gli astrofili possono pensare con i classici oculari che hanno quanti ingrandimenti farebbero magari con un 10 mm una domanda che ti volevo fare abbiamo visto diciamo il James Webb che è partito qualche settimana fa progetto importantissimo interessante atteso sviluppato da moltissimi anni però con un costo diciamo altissimo almeno rispetto a un ELT che rimane a terra lavora per molto più tempo è accessibile negli anni potrà cambiare gli strumenti averli aggiornati eccetera cioè com'è la competizione diciamo fra telescopi a terra e telescopi diciamo che non è una competizione ma è una sinergia perché come dicevi tu ok a terra il vantaggio è che puoi costruire una cosa molto più grande puoi intervenire facilmente non serve che mandi poi a James Webb a HST era possibile mandarci lo shuttle con gli astronauti con gli astronauti a JWST siccome a L2 ed è in tanta malora non ci si può andare proprio cioè non ci si può sostituire non si possono fare degli upgrade non si può fare niente è una missione destinata a durare cinque anni magari qualcosa di più quindi è una cosa che va proprio per conto suo però ha un telescopio che è molto più piccolo è un telescopio da quattro metri per l'amore di Dio come telescopio spaziale è enorme diciamo non si è mai mandato nello spazio niente di così grande però fa delle cose che da terra non si possono fare cioè abbiamo da terra abbiamo l'atmosfera di mezzo quindi che ci limita per svariati motivi ma soprattutto nel caso di JWST taglia completamente le frequenze infrarosse quindi quello che JWST farà dallo spazio è semplicemente impossibile da terra quindi quello che uno deve fare è dire ok c'è un telescopio ottico vicino infrarosso enorme da terra c'è un telescopio infrarosso nello spazio devo cercare di osservare gli stessi oggetti o fare delle cose che siano sinergiche cioè in modo soprattutto durante la fase di sopravvivenza di JWST poi vabbè poi sarà quello che sarà JWST lascerà una grande eredità e andremo avanti a osservare target di JWST per molti anni ma mentre sono vivi entrambi sarà importante fondamentale avere una sinergia ed è per questo che anche assieme ad ALMA cioè il più grande radiotelescopio sulla terra si sta cercando di creare un canale unico per la sottomissione dei progetti scientifici in modo che uno può applicare simultaneamente a JWST all'ILT e diciamo ad ALMA in modo da garantire una copertura con una grandissima con un grandissimo range di lunghezze d'onda che va dal radio all'ottico vicino a infrarosso fino all'ontano infrarosso quindi diciamo hai una una vera e propria sinergia quindi non è una competizione è ovvio e lo dici bene che è costosissimo eccetera che costa più di dieci volte tanto a parità di diametro poi non c'è confronto però lo ripeto farà delle cose che noi da terra non potremmo fare e noi con l'ILT faremo delle cose che JWST non potrà fare perché è un telescopio piccolo quindi è l'unione che fa la forza sembra una frase tritta ma è così è l'unione che fa la forza hai parlato di radio adesso rispondo a una domanda ma forse ci potrai dedicare una serata per parlare dei radiotelescopi in Cile certo stasera volutamente non vi ho fatto neanche vedere neanche una fotografia di ALMA ALMA è uno dei diciamo noi siamo esi uno dei membri del consorzio di ALMA ALMA è il più grande radiotelescopio della Terra a Cianantor diciamo a 5.000 metri di altezza è un soggetto estremamente interessante sarò contento di parlarvene ma ci vuole proprio una serata solo per quello sì non dovevi non dovevi citarla perché così ho subito preso la palla al balzo ecco hai fatto bene ciao volevo comunicare una cosa particolare Rinaldo Rinaldo Queirollo uno diciamo dei nostri amici dell'osservatorio astronomico di Sestri mi ha scritto che uno dei motori di quei telescopi è stato costruito da un'azienda proprio di Genova Sestri Ponente quindi possiamo dire che siamo internazionali anche noi bravi complimenti a Radita che l'ha costruita dovrebbe essere Face Motion mi sembra che si chiama sì abbiamo va detto diciamo un mochino di orgoglio nazionale non fa mai male soprattutto un'altra tecnologia va detto che diverse cose anche lì al VLT la struttura la cupola sono state costruite da Lansaldo adesso la Cimolai costruisce le VLT sono cose di grande prestigio per cui l'Italia resta un partner importante anche nella costruzione degli strumenti insomma i nostri osservatori Firenze anche Trieste Milano Roma contribuiscono in maniera Padova in maniera molto rilevante al progetto alla costruzione al testing al commissioning diciamo e poi all'utilizzo scientifico di questi strumenti certo volevo dire che abbiamo uno spettatore particolare stasera Nando perché abbiamo Isaia che sta seguendo proprio dal Cile sono vicino a Santiago non proprio a Santiago che chiedevano lì alla chat complementi Nando parli abbastanza bene l'italiano sì muchas grazie che tal bene bene qui stavo proprio ricordando due settimane fa sono andato vicino alla Silla ad osservare il cometa Leonard perché qua dalla città praticamente non si riusciva a vedere e mi sono escapato al fine settimana proprio di Capodanno ad osservare al deserto a occhio nudo anche con i prismatici bravo quindi quando tu stavi raccontando tutto quello del cielo io mi stavo facendo proprio è il ricordo da due fine settimane fa che sono stato lì bravo piacere riconoscere e anche io bene io ringrazio sono Gigi Bernardi dell'associazione Polaris il presidente ringrazio Nando per il bellissimo viaggio che ci ha fatto fare sia nella natura che nella tecnica nel futuro nella scienza è una cosa bellissima è anche un motivo di orgoglio per un europeo a sapere che abbiamo una una cosa così bella così importante e così avanzata anche rispetto a tutto il resto del mondo e niente spero che riusciamo a organizzare se non altro una visita a Monaco perché è più vicino poi vedremo per il deserto di Atacano ringrazio tutti i partecipanti ringrazio il gruppo Astrofini Savonesi che collabora in cui collaboriamo per questa bellissima rassegna e grazie se vuol dire la parola anche Sandro ma ha già chiacchierato sono già intervenuto mi hai tolto un po' le parole la presentazione è stupenda e diciamo appassionata di che ci ha fatto Nando perché mi pare che al di là degli aspetti professionali ci ha lasciato un pezzettino di cuore facendo e ci ha fatto desiderare di vedere questi questi paesaggi strepitosi viene voglia di andare a visitare tant'è vero a trovarti a Monaco che è decisamente più vicino che è decisamente più vicino quindi ti ringrazio veramente tantissimo e spero di rincontrarti di nuovo quanto meno per parlare di Alma giusto così come si direbbe fuori verbale mi ha dato una richiesta sulla chat a me personalmente mi chiedono ma chi è la fotografia che vediamo là dietro scusa è una pura curiosità sono molto contento di dirvi chi è perché è un vostro conterraneo è Riccardo Giacconi premio Nobel per la fisica ex direttore dell'Osservato del Bieso ed è stato sotto la sua direzione che il BLT ha preso ha preso il volo e io quando l'ho conosciuto io ero uno studente ed è rimasto è uno dei personaggi che è rimasto più così impresso come esempio e ho la sua fotografia appesa grazie di aver Riccardo Giacconi è nato a Genova per questo per questo diciamo è un vostro conterraneo era nato a Genova io ripeto solo l'applauso che ho fatto per iscritto a Nando che è è stata una conferenza interessante ed è un bravissimo redatore fluente piacevolissimo da ascoltare e speriamo di risentirti vi saluto grazie grazie ciao ciao